Archivio storico universale delle belle arti del centro accademico Maison d'Arte di Padova. I grandi autori del Novecento, i protagonisti della storia, Marisa Boglia. La romantica veduta veneziana è davanti al nostro sguardo, tra riflessi speculari della laguna risalendo la china di una lirica e sognante fantasia. E questa è la peculiarità della splendida pittura della nota artista veneta Marisa Boglia. Per cogliere la bellezza immediata della natura e ricondurla quasi impercettibilmente in un logos ideale di emozioni. Così le originali visioni nella spontaneità impressionista si appuntano su ariose vedute marine e paesaggi campestri, spiagge dalle limpida luminosità. Antichi borghi ed angoli urbani e veneziani, nella romantica trasfigurazione, dove una misura ideale unisce la tangibilità realistica della natura e l'impianto strutturale della forma. Nella riadificazione memoria del mondo visibile, ciò che colpisce nella pittura di Marisa Boglia e l'impetazione armoniosa nella freschezza pittorica. Traducendo le bellezze naturali, consentita partecipazione ed afflato poetico della terra veneta. Ecco perché le delicate tonalità tra i verdi moschiati, i rosa smorzati e gli azzurri tenui nei trapassi di luce sono sempre trasparenti e descrivono, palesemente, il trascorrere della luce sulle ampie distese di cielo. Il soffio dell'aria, nel dialogo con le voci sommesse della natura, nella sua tavica bellezza, imprimendo sempre, nella sua autentica e personale arte, un inconfondibile timbro lirico che ricorda atmosfere impressioniste, tra gli odorosi fiori negli atelier di Cézanne e Monet, ricondotte ad un sentimento odierno per un nuovo linguaggio d'arte nella storia dell'arte italiana ed internazionale. Grazie a tutti!